Mattia Filippone entra nel secondo tempo e risolve la questione San Giovanni, doppietta per lui, dici le tue impressioni. Niente, non siamo entrati con la testa giusta, il primo tempo è finito 1-1, poi il secondo tempo siamo entrati veramente male e poi alla fine ci siamo svegliati e siamo riusciti a portare il risultato a casa. Contento questi due gol? Contentissimo per i miei due gol e speriamo di raggiungere il nostro obiettivo. E a chi li dedichi? A tutta la squadra. Bravo Matti. Grazie.